Io sono Lucia Moretti, Anna Laura Enrico, noi siamo le co-founder del Talent Garden di Cosenza. Siamo tre, siamo tre, però questo non lo dovevi dire, vero va bene? No, no, va bene, siamo tre perché abbiamo scelto un amministratore donna fortemente incinta e quindi, che sono io, perché Anna Laura è fortemente magra e quindi sì, siamo in tre. No, lo dicevo, può anche andare perché questo è l'annuncio al franchisor, a Davide Dattoli, che non sa che io sono incinta. Quindi adesso gli manderò questo video per farglielo sapere. Anzi, adesso siamo innovativi. Talent Garden Cosenza nasce a marzo, è una società, un SRL fondata con sei co-founder, tutti in quota poritaria, che vogliono provare a portare il modello del co-working sull'innovazione digitale per la prima volta al sud. O meglio, al centro sud. Talent Garden per noi è un progetto altamente innovativo dal punto di vista sociale. Vogliamo provare a creare lo spazio che noi, quando ci siamo laureati, non abbiamo trovato nella nostra città. Uno spazio dove chiunque si può cimentare con le proprie idee, con una rete di persone che hanno le competenze volendo per realizzare quelle idee. Lo facciamo a Rende, quindi a Cosenza, ma speriamo di avere una community che sia quantomeno regionale. Quindi il TAG vuole essere un TAG regionale che si collega agli altri TAG che sono nazionali e mondiali, perché adesso sta per aprire a New York e a Bruxelles. La società è già nata, però noi inaugureremo nei primi di maggio. Sarà la primavera della Calabria. Lo facciamo perché siamo stufi di dover aspettare che qualcuno lo faccia al posto nostro e quindi ci siamo messi in gioco con le capacità che abbiamo, le competenze che abbiamo acquisito con anni e anni di gavetta e stage gratuiti ovunque fosse possibile farli. E abbiamo, insomma, risparmiando e mettendo da parte ognuno di noi un gruzzoletto, abbiamo detto adesso facciamo noi quello che le istituzioni, insomma coloro che devono fare le politiche per agevolare i giovani a crearsi una prospettiva futura non hanno fatto. Quindi vogliamo dare l'esempio ai più grandi. Quindi lo facciamo senza il canonico assistenzialismo regionale, con fondi europei, regionali e nazionali, ma con fondi privati e lo facciamo anche perché probabilmente solo mettendoci insieme, mettendo insieme eccellenze ed esperienze fortemente innovative insieme, possiamo probabilmente dare un salto in più alla nostra regione. Se continuiamo ad essere competitivi e non cooperativi, qualche cosa andrà a morire.